Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Belen, lo spettacolo di una supermamma. La showgirl argentina ha condiviso su Instagram un pomeriggio speciale con la figlia Luna Mar, dipingendo zucche tra i vigneti. Il web impazzisce, ma si nota l'assenza di Angelo Galvano, segno che la storia è finita. Belen tornerà presto in tv con due programmi, ma prima si gode momenti di relax in famiglia. La vita da mamma single sembra andare a gonfie vele, con tempo per nuovi amori in futuro.